già l'ambiente già quello che vedrete e beh già dal titolo avrete capito che siamo su un nuovo episodio del laboratorio yt oggi andremo ad analizzare scp 082 o anche chiamato fernand il cannibale in inglese fernand the cannibal mi raccomando amici miei sopportate al massimo questa serie perché non sarà l'unico scp che uscirà consigliatemi qui sotto nei commenti quale scp portare nel mio laboratorio nel prossimo episodio sotto in descrizione troverete la mia sempre la mia playlist del laboratorio yt e quindi prima di iniziare vi devo dire di andare ad iscrivervi al mio canale stasera non perdetevi da live di just chatting che farò su youtube e mi raccomando lasciate un bel pollice in su a questo a questo video e cliccate la campanella per ricevere tutti i miei tutti le notifiche del mio video non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ad analizzare fernand il cannibale ho anche chiamato scp 082 procedure speciali di contenimento per la soppressione alla pacificazione di scp 082 sono stati distanziati alloggi ingranditi situati all'area all'area di biocontenimento armata 14 sebbene le armi standard hanno abbiano scarso effetto sulla sorveglianza di 082 la cooperazione è facilmente raggiungibile attraverso una farsa il soggetto ha attualmente l'impressione di essere stato nominato re di francia e la sua area di contenimento sia in realtà un grande palazzo progettato per la sua protezione tutto il personale che interagisce deve essere informato di questa farsa e gli viene ordinato disegnare lo stratagemma il personale addetto alle polizie deve essere esclusivamente personale di class d le guardie incaricate del contenimento di scp 082 devono essere ricevere l'autorizzazione di livello 2 ma devono asternarsi ad interagire direttamente con scp 082 e ora vi dico la sua descrizione ovviamente di classe è euclid è umanoide è carnivoro sapiente e senziente 082 è geneticamente umano tuttavia alcuni alcuni processi chimici ormonali cancerosi e soprannaturali 082 è cresciuto fino a raggiungere proporzioni gigantesche alto circa 2,4 metri circa 8 piedi e con un peso di oltre 310 kg circa 700 libri le caratteristiche fisiche di scp 082 sono grossolarmente sproporzionate ha una testa calva leggermente appuntita un grande mento e mascella rotondati un naso bulboso e occhi scuri incavati il soggetto è sia via in sovrappeso che possiede una grande quantità di massa muscolare gli avambracci sono muscolosi e pericolosi con una circonferenza di circa 71 centimetri circa 8 pollici l'ampiezza del pugno del soggetto è quasi 30 centimetri lungo le nocche quasi 12 pollici sebbene i piedi siano grandi sono piccoli in proporzione dal corpo del soggetto taglia uomo 14 us soggetto la pelle è abbronzata e scura l'aspetto fisico generale è aggravato da numerosi cicatrici esultato di anni in tentativi di soppressione e contenimento la maggior parte dei raggi x è stata difficile da interpretare a causa dell'elevata densità del suo tessuto muscolare ma le scansioni hanno rivelato innumerevoli proiettili e persiglio diverse rame di coltelli e spade conficcate nella carne di sgp 082 082 si riferisce a se stesso come fernand e parla affluentemente francese inglese fortemente accentato quando parla lo fa a denti stretti enormi 082 separa i denti solo per mangiare cibo e per cantare il soggetto canterà canzoni a suo piacimento che vanno le dimenticate canzoni da bar dell'era vittoriana alla musica classica moderna tipicamente mentre cucina e mangia 082 non si petti nei capelli ai lati della della testa ma li taglia e si rade con un grosso coltello da macellaio originariamente fornito per la preparazione del cibo va notato che anche i capelli i peli del viso sono esagerati un singolo filo come un millimetro occasionalmente 082 stringe i denti così forte da far sanguinare le gengive ma non si sa perché questo è considerato normale il comportamento di 082 è molto amichevole spenserato 082 ha accumulato un ampio guardaroba durante il periodo di incarcerazione e si diverte a vestirsi in molti modi diversi inclusi abiti formali uniformi militari da clown e abiti da donna nuovi pezzi dovrebbero essere resi disponibili su richiesta il soggetto tanta spesso di scherzare e di solito è educato con il personale invitando spesso a cena tuttavia il personale in visita dovrebbe essere consapevole che in qualsiasi momento 082 è in grado di attaccare e mangiare voracemente gli altri il soggetto si scuserà spesso per la sua mancazza di buone maniere per aver interrotto la conversazione di qualcuno divorandogli la testa mentre rovinava i suoi annunci la mascella di 082 è abbastanza forte da spaccare le ossa e sembra apprezzare i teschi scp 082 è incapace di differenziare i fatti della finzione quando quando li legge o guarda la televisione i film in diverse occasioni 082 ha espresso un grande desiderio di incontrare la sua persona preferita Hannibal Lecter è un cannibale e il soggetto crederà che tutti i programmi televisivi siano un qualche forma di reality sebbene Hannibal Lecter è un vi spiego io è un killer che fa parte di un film ovvero ovvero il silenzio degli innocenti satira e finzione vanno oltre la sua comprensione apparentemente 082 comprende il suo il concetto di mentire ha dimostrato di sapere quando gli gli altri mentono palesemente e generalmente dice evidenti falsità quando gli viene chiesto del suo passato secondo SCP 082 è un vampiro un omuncolo uccello grande ucce uccello il grande andrè il gigante napoleone obelix compagno di asterix dottor bright hulk alessandro magno capitano uncino sherlock holmes dottor frankenstein e il mostro di frankenstein interrogato su queste bugie dà la scusa ma mento solo quando è tra i denti questa era era 082 ho anche chiamato fernand il cannibale questo SCP sembra un po più o meno innocente rispetto agli altri cioè si chiede scu chiede scusa se mangia una preda oppure di solito è educato col personale io ce l'ho è davvero educato a certe volte devo devo ricordare qualche qualche membro del mio laboratorio perché altrimenti potrebbe essere aver mangiato qualcuno e si crede di essere questi personaggi che diamine di personalità e non si sa bene ragazzi questo video del laboratorio yt si conclude qui spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo ad un prossimo video dal vostro amante è tutto anzi dottor amante ciao ragazzi